Ragazzi, un saluto dal vostro amato, amatissimo Bianconevo. Ebbene sì, stavo proprio vedendo gli elites, ma io la partita l'ho vista. Il Bayern, meritatissimamente, batte 2-0 l'Inter. Il Liverpool, purtroppo, batte 2-0 in Napoli. Prima sconfitta dei Paternopei. Ciò che vuol dire? Vuol dire che in Napoli questa sera ha perso l'imbattibilità in UEFA Champions League, ma non ancora in Serie A. Per cui, caro Napoli, se è una squadra formidabile, hai perso 2-0 con il Liverpool, lascia stare questa partita. Hai giocato anche bene, perché ricordiamo che in Napoli questa sera ha giocato anche molto bene in casa del Liverpool. Anche il Liverpool, pur avendo vinto, ha avuto difficoltà, perché il Napoli ha gestito una corretta, una giusta partita. Ha segnato anche un gol, ma allo stesso tempo è stato anche annullato dall'abito, forse, se mi ricordo, per un fuogioco, non lo so. Però sono già ai luttari di finale e hanno ottenuto un bellissimo percorso Champions. Per cui meritano tutto i Paternopei. Hanno perso, ma hanno meritato di passare il turno in Champions League. In Serie A sono ancora imbattuti e devono rimanere imbattuti perché giocano un calcio da Dio. Punto. Il Napoli è una squadra che merita. Ha perso, non fa niente, ma merita sempre. Però il Liverpool alla fine vince e complimenti ai vinti e ai vincitori. Ma allo stesso tempo complimenti anche a coloro che purtroppo non hanno conquistato i tre punti. Passiamo invece dalla trasponda del Bayern Monaco che batte l'Inte 2-0. Ciò che vuol dire? Vuol dire che non c'è niente da dire perché il Bayern Monaco ha dominato Simone Inzaghi, ha dominato l'Inte, i tedeschi che dominano i lunghi e largo, i nero e a zughi di Inzaghi. Ed è giusto che sia così. Questa sera l'Inte non l'ho vista per niente convinta in campo di questa partita di UEFA Champions League. e il Bayern Monaco ha gestito, anche se è una corretta partita, una giusta partita. E infatti, meritatamente, ha vinto. Ha vinto onestamente, con merito, con precisione, con cazzima, come ha fatto il Liverpool. La stessa cosa vale anche al Bayern Monaco. Bayern Monaco 2-0. Partita di grande merito e grande cazzima. Liverpool 2-0. La stessa cosa. Sono state due squadre che hanno gestito bene la partita, ma allo stesso tempo, ammetto che hanno avuto delle difficoltà. Però, il calcio va avanti. Il bianco-neo dice, non tocchiamo mai il fondo, è alla prossima. Il bianco-neo dice, non tocchiamo mai il bianco. Il bianco-neo dice, non tocchiamo mai il bianco. Grazie a tutti.